Come combattere le contraffazioni in campo alimentare? Il bilancio illustrato dal ministro Mario Catania, il risultato è stato raggiunto grazie al lavoro per la prima volta congiunto di carabinieri, corpo forestale, guardie costiera, tutti a caccia dei pirati del cibo made in Italy. Un dispiegamento di forze giustificato dal fatto che il volume d'affari della contraffazione a tavola del falso made in Italy ammonta 60 miliardi l'anno, una cifra con cui possono essere creati fino a 300 mila nuovi posti di lavoro. Obiettivo tutelare il consumatore e il produttore onesto. Un caso eclatante è quello del vino che prodotto in Australia o Brasile viene venduto con etichette che lo spacciano per prosecco, prodotto doppio italiano, che può affreggiarsi del titolo di prosecco appunto solo se è proveniente da alcuni vitigni italiani o sloveni.